Preseduta dal Vescovo della Diocese di Piazza Elmerina, Monsignor Rosario Gisana, assieme a Don Lino di Dio e l'assistente spirituale Don Rosario Sciacca, si è svolta ieri nella chiesa Sant'Agostino di Gela la celebrazione acristica per i 150 soci dell'Unitalsi. Presente il personale volontario e i ragazzi con abilità diverse, è stata l'occasione per vivere momenti di comunione fraterna, un appuntamento annuale di questi tempi. La presenza di tutti gli associati, chiaramente con gli ammalati diversamente abili, in un certo senso ci ha fatto vivere un momento di grazia, di paradiso, come si suol dire, come lo diceva il nostro San Filippo Neri. Perché? Perché tutto questo? La parola del Signore oggi ci invitava a chiedere un segno al Signore. Questo segno è presente in ciascuno di noi, perché l'Emmanuele che nella persona di Gesù di Nazareth si è incarnato per la salvezza dell'umanità, oggi lo vediamo che continua questo processo di vicinanza, di prossimità, di Dio, oserei dire, di vera e propria incarnazione, nel cuore di tutti noi. Non solo quando facciamo del bene o quando lo riceviamo, ma quando anche noi custodiamo questi piccoli che il Signore ci ha donato per incontrarlo sempre più credibilmente. Subito dopo la celebrazione è stato benedetto un pulmino attrezzato anche per il trasporto di disabili. Il mezzo è stato donato dalla Fida Gela. Ieri erano presenti il Presidente Alessandro Tallegra ed il Consigliere Raffaele Giocolano. Abbiamo deciso assieme a me, al Consiglio di Amministrazione e alle segreterie di CGL, Cisle e Willi dei Chimici, di fare questo dono all'Unitalsi. Ci siamo riusciti dopo cinque anni, ma ci siamo riusciti, anche perché il Fida all'Unitalsi sempre gli ha dato un piccolo contributo nelle nostre possibilità che abbiamo avute finanziarie. Ancora una volta, dove non arriva l'amministrazione o comunque lo Stato, c'è la mano del privato. Io sono riconoscente al Fida per aver dato la possibilità di donarci questo pulmino che ci dà la possibilità di poter trasportare i nostri iscritti alle varie giornate che noi facciamo. Quindi un segno di riconoscenza enorme a questo gruppo del Fida di Gela. Noi dell'Unitalsi sempre ci prodighiamo per ragazzi diversamente abili. Per noi questo è anche un motivo di speranza per continuare la nostra attività verso le fasce più deboli dei ragazzi diversamente abili. Alla fine delle manifestazioni di ieri i partecipanti hanno preso parte al consueto pranzo di Natale, donati regali e panettoni a tutte le famiglie dell'associazione.